Il suo atteggiamento impassibile, freddo, imperturbabile non ha tratto in inganno i finanzieri di Termoli. Lo hanno controllato e l'uomo, un pugliese in trasferta sulla costa molisana, aveva con sé un chilo di droga tra hashish e cocaina. Il pusher è stato arrestato. I militari hanno perquisito la casa dell'uomo e hanno trovato e sequestrato un cellulare, un bilancino di precisione, materiale vario di confezionamento e diverse banconote con ogni probabilità a provento dell'attività di spaccio. L'uomo è in carcere con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti a disposizione dell'autorità giudiziaria della procura di Larino. Le fiamme gialle continuano in questo servizio di controllo del territorio a salvaguardia delle leggi e a contrasto dei fenomeni connotati, scrivono dal comando provinciale, da fortissima pericolosità sociale, tra cui i traffici illeciti di sostanze stupefacenti.